Buongiorno e bentornati alle nostre visite digitali. Oggi parleremo di un appartamento in duplex che si trova a Colle delle Rose, quindi nel comune di Riano in provincia di Roma. Ci troviamo in una zona residenziale molto carina e molto curata, immersi nel verde ma comunque vicini a tutte le comodità e a tutti i servizi. L'immobile di cui parleremo oggi è una delle quattro unità immobiliari ricavate dalla ristrutturazione di una villa. Ognuna di queste unità ha l'ingresso indipendente ed ha il proprio giardino. Al piano terra troviamo la zona giorno, quindi soggiorno e cucina vista, un comodo ripostiglio per riporre la lavatrice e un bagno con una doccia dalle generose dimensioni. Salendo le scale invece arriviamo al primo piano. Qui invece troviamo un altro bagno con un'altra doccia, una camera singola e una matrimoniale. Dalla camera matrimoniale accediamo alla terrazza la quale ci porta in giardino. Il giardino circonda l'immobile su due lati ad angolo e si può accedere ad esso sia dal piano terra che dal piano primo. Ogni mese ci sono 40 euro di spese condominali o meglio consortili, poiché è compresa l'acqua utilizzata dall'immobile e la manutenzione e la pulizia e cura degli spazi comuni. Il prezzo richiesto per l'appartamento sono 190.000 euro. Non viene richiesta alcuna spesa di commissione per lo studio immobiliare, quindi non c'è nessuna provvigione da pagare per questo immobile. Per conoscere nel dettaglio questa e le altre nostre proposte andate sul sito www.piandoniimmobiliari.it oppure telefonateci al 335 49 45 92. Saremo pronti a rispondere a ogni vostra domanda.